Io sono Francesca. Io sono Olivera. E questa è la libreria La Volpe Volante. Una libreria per bambini. Oltre ai libri abbiamo anche dei giocattoli e tutto in chiave di ecosostenibilità. Facciamo tante letture e tanti laboratori. Quello che probabilmente noi proponiamo in maniera diversa e particolare rispetto ad altre librerie è proprio tutta la fase di attività, di laboratori, di letture. Il concept della Volpe Volante è ecosostenibile. Abbiamo iniziato nel 2019 e dopo pochissimi mesi dell'attività ci siamo trovati nel periodo Covid, che è stato ovviamente un colpo duro, però dopo ci ha anche spinto a cercare delle altre soluzioni. Il Covid ci ha permesso di acquisire nuovi clienti o di fidelizzare quelli precedenti, anche a maggior ragione quelli che stavano più distanti, perché poi ci siamo organizzati per poter consegnare a casa, per poter spedire eventualmente a chi stava più distante e quindi fornendo comunque la consulenza telefonica abbiamo comunque portato anche i libri, anche in zona rossa, abbiamo portato i libri a casa ai bambini che ne avevano effettivamente bisogno. E' quello che noi vorremmo è che la gente continuasse a valorizzare anche i piccoli negozi del quartiere.